Leggerezza, ready made, semplicità. La collaborazione tra Vico Magistretti e Cassina comincia negli anni 60. L'idea, o come diceva Vico, il concept dietro il tavolo Edison, sta tutto nel giunto a croce che tiene insieme le gambe e i sostegni del piano del tavolo. Vico diceva che uno dei sistemi più eleganti per tenere insieme quattro tubi è quello dei giunti a croce che vengono utilizzati negli impianti di gas illuminante. In qualche modo tutto il tavolo gira intorno a quest'idea. La riedizione del 2021 del tavolo Edison è molto rispettosa del progetto originale dell'85.